Con questo gesto significativo l'artista ha voluto trasmettere tutta la sua intolleranza al glutine, lo vediamo chiaramente, scendendo, attraversando questo taglio. Cosa c'è? Cosa c'è? Troviamo l'orizzonte oltre la siepe e qui c'è un connubio, un connesso, un insieme di parallelismi con chi? Con chi? Con l'opardico, chi ce lo deve avere questa connessione? Scendendo attraverso il taglio possiamo invece notare tutta la sua sensibilità, l'emotività, tutto un trascorso di sentimenti. È chiaro, questo lo vediamo chiaramente, non dovremmo neanche spiegarlo, invece lo spieghiamo.